grazie cari come stai va te scartina buonasera almeno sono passati vent'anni vent'anni chi l'avrebbe mai detto Cici che ti avrei ritrovato vestito come Zorro a fare un programma ora da lì a fatti condurre un programma in televisione esagerato voglio dire esagerato hai ragione pensa che la stessa domanda che mi faccio io ma come mai secondo me non c'era nessuno disponibile la RAI è messa proprio male stanno chiamando più cani e porci meno male che c'è Vanessa dov'è Vanessa? è Vanessa sta lì perché io con lei devo parlare arriviamo Vanessa arriviamo un attimo ho tanti anni che io lavoro con lei però io gli voglio un bene tu non hai capito cioè io ti voglio bene a te come un fratello ma lei però non ho mai avuto il coraggio perché io poi sono timido di dirgli le cose cioè di dirgli l'affetto che ho nei suoi confronti devi fare una cosa semplice usare la lingua più romantica che c'è è il francese io il francese ma quale francese? quale francese? come francese? devi usare il napoletano ma che napoletano? il francese ma datti pazienza ma scusa ma sirano di bergerac le più belle parole d'amore tu mi devi stare a sentire a me tu fai sirano di bergerac ci penso io tipo sirano di bergerac tu mi suggerisci esatto e io gli dico le cose il napoletano mi suggerisci ma io non lo so il napoletano ci penso io che non mi sto affatto andiamo andiamo Vanessa stavamo parlando di cose nostre cose non stanno eravate proprio chissà 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 amore mio è bello che tu sia qui meno male che ci siete amore perché qui se no veramente era un macello in questo programma sei molto guapo grazie sono guapo? sono guapo grazie allora Vanessa io insomma è tanto che ti voglio dire delle cose che ora mi vengono in mente ma nuvasa eh? nuvasa che è nuvasa? vai Vanessa un vaso cos'è un vaso? da notte da notte uno ha tanti vaso in casa tu stai bene Giorgio? sei un po' diverso da è venuto in mente sotto il vaso non sa come mai io a Lucca sembra un uomo tuo vai è sempre a Lucca il dono tuo ma Lucca non è a Lucca? io c'ho cioè io e te siamo molto amici è follodica è follodica è follodica è il minone ma poi che c'è è di follodica allora io in poche parole poche ma buone magari cosa? io io ho sciatato in dolietta tu guarda con tanni minuta hai spettato in dolietta tu guarda capito? il letto è bagnato perché hai vabbè toglite toglite hai spettato in dolietta tu guarda con tanni minuta hai spettato in dolietta tu guarda con tanni minuta capito? no perché allora Giorgio scusami è che detto da lui ha un senso io io ti voglio bene ma io non ci capivo niente e ho capito ma sai qual è il problema per un cantautore come lui è facile cantare l'amore per noi attori recitare l'amore è molto più difficile fallo non ne parliamo certo come no è ovvio recitarlo è molto difficile ma d'altronde Vanessa questi sono i nuovi poeti parliamoci chiaro è vero è vero cioè a scuola si dovrebbe studiare oltre ai classici leopardi d'annunzio si dovrebbe studiare Battisti si dovrebbe studiare De Gregori Lucio Dalla stiamo tutti d'accordo vero tutti d'accordo sì insieme all'ora di inglese tedesco un'ora di cici d'alessio sempre di lingua straniera si tratta quindi però questi nuovi poeti signori hanno un vantaggio il vantaggio dei nuovi poeti Vanessa è che mettono la musica con la musica le poesie diventano più leggere leggere si imparano meglio non è come a scuola leopardi studiare la memoria con la musica tutto si impara diventano canzoni le poesie e tutti si le ricordano no? se io per esempio adesso vi dico che ne so non restare chiuso qui pensiero per dire no? oppure l'unico frutto dell'amor è la banana è la banana qui rispondano solo le donne non so che è una vedi la ricetta che la storia come arriva una chitarra già parte l'applausi me la metto al collo io la gente va via non so come mai fermi ora tutti con me mi raccomando non facciamo brutta figura con l'Italia sempre caro mi fu quest'ermo colle che ha risposto una maestra di bustazizio qui oh non era il suo compito è un lasso nemmenio meno male ha guardato te meno male guarda questa la sapete questa la dovete sapere eh acqua azzurra acqua chiara con le mani con le mani con le mani con le mani che è un'altra chiare fresche dolci acqua e ove le belle membra pose con lei senti che silenzio l'acqua di Battisti sì quella del Petrarca no poveri di sodio siete poveri di sodio i nuovi poeti hanno solo una cosa in comune con i classici quando scrivono hanno bisogno sembra strana questa cosa ma di solitudine cioè il cantautore più è triste e più scrive delle cose meravigliose guardate per esempio un grande cantautore che è Umberto Tozzi Umberto Tozzi quando ha scritto la sua canzone una delle canzoni più celebri è avvenuta così la cosa lui è andato a casa pieno agosto un caldo si schiantava lui arriva tutto sudato con lo zaino dice babbo mamma ora per favore se mi lasciate solo un pochino perché io ho bisogno di scrivere mi è venuta l'ispirazione e il babbo è tutto convinto la mamma un po' meno Tozzi va in manzarga ad agosto e comincia a scrivere dopo una quendicina di giorni la mamma preoccupata dice mamma quanto è che non lo vedo il mio figliolo che parla sto zitta il tuo figliolo è a scrivere forza va a fare da mangiare vedrai quando viene a fare la canzone passano i giorni sempre più caldo Tozzi non si vede la mamma sempre più preoccupata a settembre Tozzi scende dalle spalle il babbo e la mamma lo aspettano col vestito della festa perché non lo vedevano da mesi scende Tozzi babbo mamma ho scritto la canzone siete pronti siamo pronti vai ti amo 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 ora cambia eh ora cambia ti a umberto ma era meglio andare a far judo come tutti i tuoi abiti non ce l'ha un lato più sì Grazie a tutti.